inferno 29 come fu difficile a dante di trovare un dopo un al di là alla violenza scatenata nella nonna bolgia dedicata ai seminatori di odio e di cisma ognuno può immaginare le sue luci sono state inebriate dallo spettacolo di tanti corpi taliati sì che il sangue faceva la fascia sozza ma dante non potrà lasciare questo circolo senza un ultimo incontro che darà luogo a una confessione forse la più intima di tutte della guerra che occupa il suo cuore dante e virgilio però non si fermarono al mondo del sangue e delle piaghe prima di lasciare male bolge c'è qualcosa di un nuovo grado del peggio la decima bolgia dove regna la falsità non soltanto la falsità degli alchimisti ma la falsità delle parole quella dei falsi maghi che pretendono di volare quella delle false monete quella del teatro della vita dove tutti borano tutti quella delle spese assurde e delle brigate insensate al di là rimangono spazi soltanto per esseri non più umani giganti incapaci di pallare suonatori disperati di corno e traditori divorati dal fondo nel mondo come in questo passaggio in un solo canto tra la nona e la decima bolgia trovare un'unità vera di pensiero di stile è stato il problema dichiarato da tutti i commentatori che parlano d'un destabilizio center da b da b non si può però leggere dante senza fare i conti con l'unità che supera le rotture quasi infinite del testo ma basta per oggi di seguire via aperta da giovane giovane di savico accertare il vero e avverare il certo dante apre il canto con le lacrime ma questo non impedisce uno sguardo severo di virgilio inquieto di vedere il suo discepolo ritornare a una fisità nemica dello scopo del viaggio un attimo virgilio crede di non vi indovinare una specie di perversione in dante per i corpi mutilati mio giglio ricorda la prudenza di dante in altri casi e fa tutti i suoi sforzi per liberare il suo discepolo usando per esempio dell'argomento della quantità perché fermarsi tanti sono questi peccatori in un circolo di una circonferenza di almeno 22.000 miglia ma come mai 22.000 se la terra ha soltanto per perimetro qualcosa di 20.000 miglia se facciamo la modificazione è difficile valutare il significato di questa cifra soprattutto perché nella seguente bolgia separata dal primo dalla prima soltanto per un ponticello questo cicero cercolo è divenuto 11.000 miglia cioè la metà ma perché queste cifre 11 e 22 non è sicuramente per dare un'atmosfera realistica come racconto come dicono molti nel convivio è il numero delle stelle 1022 è il numero delle stelle numerate dai savi d'egitto e per dante è la sintesi dei tipi di movimenti movimento locale alterazione a crescimento cioè in movimento l'undici che supera la decade risulta di un'alterazione negativa come 666 che non moltiplica che sarà forse salvato dagli 515 di cui la somma è ancora 11 tutta l'opera torna attorno a questo 11 anche attraverso i suoi versi per liberare dante da questa fascinazione virgilio prova a richiamare l'orario della discesa essendo la luna piena se la luna è sotto l'emisfero nostro significa che siamo alla luna dopo mesogiorno e secondo me ritorna qui l'immagine della donna dell'apocalisse in lotta contro il draco chi vuole mangiare il suo figlio siamo nel centro del male la battaglia non è ancora finita bisogna mobilizzare tutti i sforzi per andare avanti vergilio lo dice dante deve vedere altro discendere non significa per lui rinforzare la sua identità ma scoprire l'altro non ribadire lo stesso ma affrontare alterità qui sempre peggiore del male dante personaggio resiste al sentimento di emergenza di virgilio di compiere il viaggio infernale in 24 ore a virgilio non piacciono questa resistenza e sceglie di andare avanti senza rispondere alla domanda siamo in uno dei radi casi nei quali virgilio cioè la ragione superiore come dice londino sembra rinunciare alla cagione cioè al principio della ragione dante oppone un timido forse e spiega la sua preoccupazione questo sangue sparso non è sotto quello dell'umanità in genere è un sangue suo cioè della famiglia alighieri giri del bello stesso la formula magnifica un spirito del mio sangue propone una nuova alleanza tra anima e corpo questo sangue del morte morto non è ancora soltanto aere colorato come tutte le realtà organiche dell'oltre tomba ma sangue della famiglia al quale il vivo dante legato dante immerso nel sangue umano non può ignorare quanta nobiltà di sangue proprio gemme in questa ombra quanti obbligazioni lo stringono al debito del sangue quanti riti di famiglia dipendono ancora da lui anche se dante vuole essere un spirito libero dal localismo e dei legami della famiglia rimangono in lui attivi tutti i miti degli spiriti antichi prima di tutto preoccupato preoccupato dal destino dei poeti dante ha dimenticato il dovere patriarcale della vendetta meno male ma adesso il cugino di suo padre l'aspetta a pie del ponticello scopriamo un dante preoccupato da un paganesimo molto primitivo non soltanto un vero dovere per la famiglia ma senza dubbio una chiara allusione alla vita difficile del suo padre ci ricordiamo della tanzone da forese e questo strano modo di salomone che lega il padre di dante nella sua povertà cito forese e trovai la laghiar tre fosse legato al nodo chi non sa cio il nome se fu di salomone ed altro saggio allora mi segnai verso il levante e qui mi dice per amore di dante sciomi e non poti vedere come tutto il carattere cupo del padre appare qui e dante uomo del suo tempo soffre di non essere all'altezza delle leggi superstitiose del suo sangue il sangue della famiglia ha fatto sparire il sangue della gente e come sempre sempre il senso del balzo appare all'estremità del suo circolo struttura ricordante chi fa del balzo un punto di catastrofe nel senso che crea una rottura chi dà il senso a quello che si perde tutto il sangue del mondo si cancella nel sangue proprio sembra che dante insomma abbia dimenticato qui l'alta saggesta che concludeva la canzone tre donne camera di perdone savio uom non sera che perdonare e bel vincere di guerra conosciamo il pius aeneas ecco il più dante più della sua colpa ed una forma di misericordia per quello che soffre solo nell'inferno nella della fine dell'età delle vendette dante e pio perché passa oltre applicando le leggi di perdono del cristianesimo ma e pio verso il consorte una pietà arcaica per la schiatta impossibile a sciogliere nelle leggi del mondo nuovo bertram era per il tagliato in due pezzi dante anche lui e tagliato in due momenti della storia tra antichità e modernità e pio di questa rottura nella storia infine dante e seminatore discordia in sé stesso e teme il contrapasso cito ed erano due in uno e uno in due aveva detto bertram ma fortunamente adesso la parola con virgilio è ritrovata e il dialogo rinnovato permette di andare avanti vendetta di dio non teme suppe diceva il purgatore dirà il purgatorio come l'ha mostrato lino pertile partendo della summa teologica questione 108 due due parte la dottrina cristiana non respinge il concetto di vendetta me la riserva a dio e alle istituzioni divine che lo rappresentano insegnando alle semplici persone la pazienza a due ma dante supera due volte qui il disco teologico prima prima perché confessa la sua passione aristocratica per la vendetta d'un uomo da un uomo e secondo perché costringe la ragione virgiliana a riconoscere questa dimensione della pietra pagana che virgilio stesso aver finito per dimenticare dante qui è più saggio di virgilio saggio di una saggesta che un giorno ritroveremo nella fenomenazione dello spirito di hegel l'anima morale l'anima cosiddetta bella vuole tanto il bene secondo hegel che finisce per dimenticare la realtà del mode e finisce in una pura inconsistenza cito ad essa all'anima bella manca la forza per divenire altro di se stessa la forza di divenire se stessa una cosa vera e di supportare l'essere qui l'essere e la legge della vendetta dante ha avuto questa forza contro virgilio che anche lui voleva l'incontro dell'altro ma l'altro non era fuori negli spettacoli dell'inferno ma dentro nel secreto del sangue suo la morale non è nella negazione del debito ma dalla grandezza nella grandezza del perdono questo superamento rarissimo di virgilio da dante rivela la coscienza superiore del spirito cristiano a condizione di mostrarsi più dialettico che dogmatico la coerenza in crisi dell'anima dantesca non è un problema morale o psicologico ma un problema di tempi irriducibili in una sola coscienza e finalmente dante che insegna a virgilio il segreto della poesia cioè la polifonia dei tempi la polifonia dei tempi questo canto l'abbiamo detto si muove tra due spazi due colpi è un canto di tradizione spaziale morale momento però sempre davanti sinistra cioè secondo il fatal andare i poeti scoprono adesso il mondo dei falsatori nuova fermata nel mistero del male dopo un'illusione provocatoria alla vita monastica modello dell'ordine servato dei pecatori il convento essendo sia la prigione dei per i colpevoli sia il luogo privilegiato per i falsari forse raggiungono un puzzo d'ospedale pieno di grida a cui il poeta nostro chiude i suoi orecchi come un nuovo ulisse dell'orrore in questa fossa pudrita troviamo membra tagliate forse per denunciare quello che una mano mal ispirata può fare quando manipola la natura contro le sue leggi dante usa diversamente la sua a copersi gli orecchi per non sentire i gridi arriva allora in paragone provincia novidiana con la tristezza di egina quando l'epidemia aveva rovinato la città di un popolo tutto inferno quando fu l'ere si piena di malizia un nuovo popolo di formiche trasformate in uomini salverà egina ma in inferno nessuno nessun ristorare in un passo parallelo del convivio dante parla di ristoramento può essere sperato soltanto il longuore della marsia dei falsari tagliati come biade per la giustizia di minosse dopo l'energia negativa degli scismatici e degli altri violenti nessuno si muove qui la gente vive in piccoli gruppi alla ricerca di sostegno una visione terrificante di un mondo di immalati quasi paralizzati lo stesso forse che conosciamo purtroppo nel anno del dante settecento questa bolgia è detta a quella degli alchimisti allusione precise all'arte degli alchimisti ce ne sono veramente poche in questo episodio e la ragione per la quale i commentatori ad esempio andrea lancia o cristoforo londino insistono sulla differenza tra un'alchimia bianca di migliorare i metalli e una nera condannata e maledetta ma dante non è così esplicito e questa alchimia della decima bolgia è piuttosto una denuncia del falso della socialità umana dell'artificialità degli apparenti progressi e di guadagni facili alchimia post moderna insomma se l'esempio delle due teglia al fuoco può evocare il forno questa padella di terra fatta in due di due parti simmetriche in francia si chiama un diavolo interessante vero questi alchimisti sono governati per la cifra 2 come l'ondrogino alchimico fatto di solfo e di mercurio il metallo lui stesso appare soltanto alla fine col coltello e le tanali e poco per un discorso che potrebbe proporre un interessante contrapasso tra le schianze ruggine la lebra del metallo capocchio e lebroso forse l'immagine della rabbia del pizzicore paragonata al colpo della strega di un signorso su un ragazzo o su qualcuno che dorme può anche essere considerata come un ricordo del fulmine che compie l'opera alchimica al registro della commedia latina plato e terenzio dante mette a fuoco un mondo della delisione come se dopo la tragedia la tragedia del sangue il momento dell'alchimia fosse un momento puramente comico o almeno tragico verifichiamo qui ancora una volta un passaggio che tornerà in hegel e la sua fenomenologia lo sviluppo della tragedia nel suo senso più alto non può essere niente altro che la commedia stessa l'ironia è il solo avvenire del confronto logico con il dramma come dice hegel la forza del sapere dialettico trasmuta le leggi le massime dell'azione cioè il tragico in piacere e leggerezza della giovinezza senza limite però un momento di alta tragedia rimane la risposta di virgilio alla domanda di un danato latino incontrato qui tutto occupato con unghia a eternalmente di smaliare il suo corpo e mi sono un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo e dimostra l'inferno a lui intendo questa risposta del duca virgilio innanzi ai latini ammalati a un rispire un respiro di grandezza che annuncia la famosa presentazione di dante da se stesso al purgatorio e mi sono un che con d'amor mi rispira è vero che nel purgatorio dante non sarà più mosso da un'intenzione di dimostrare o mostrare secondo le lezioni faciliore ma dall'amore stesso allora l'apparizione di un vivo crea un crollo di terrore tra le ombre incapaci di muoversi e l'eco di questa notizia ribomba dallo spazio vuoto dall'inferno ecco dante in grado di scuottere il mondo latino addormentato la figura di grifolino d'arezzo appare in questo momento malgrado molti soli di soggiorno in questa sboggia e racconta un errore di giustizia è stato condotto rogo per regalise in tre si trattava soltanto dell'ingiusta vendetta ad un poveretto alberto da siena contro il suo cosiddetto maestro e le sue promesse di vol sciamanico assurde minosse però non si è sbagliato era alchimista e condannato dell'inferno tra gli alchimisti ha conosciuto il fuoco del rogo appartiene alla gente del fuoco abbiamo qui un esempio del divario tra la giustizia dagli uomini e quella di dio soprattutto che la condanna fu pronunciata da un vescovo che aveva questo stupido perfilio così purtroppo è stato denunciato a venezia cerno bruno da moccerego ma giove è stato arcanamente giusto e solo questo importa invece rimane la questione del volo di dedalo opera di alchimia oggi è apparso in francia il libro di nocala nicola va il paro il volo nell'aere nell'aria al medioevo essay historique sur une utopie scientifique che sull'orna dell'esempio cerebre di roger bay mostra la parte di magia in questa utopia che lega uccelli angeli e demoni e storia della tecnica dante non dimentica questa tradizione ma si mostra molto duro contro questo dedalo volante ancora nel paradiso valendo per l'aereo il filo perso però da più di tutti gli altri è nato per volare non soltanto sulle spalle di gerione ma nella luce degli occhi dell'amata beatrice volando corporalmente come il fulmine cade e il fuoco sale la severità di tanto oppure lascia intravedere che non si può volare fuori della trazione di beatrice volare questione di vanità francesi e senesi fanno a gara possiamo trovare qui una conferma del viaggio di non da parigi non dobbiamo assolutamente dimenticare che per dante filippo il bello che aveva cambiato il corso della moneta è un falsario ancora una lusone che potrebbe legare questi falsi poveri alchimisti quasi francesi alla fine del tempio a parigi e della vera alchimia possiamo concludere la storiera del povero grifolino con questa arte del volo chi voleva ad ogni prezzo imparare alberto l'inferno di dante pieno di procedure tecniche anche fatte dalla mano di d'edalo la falsa vacca con pacifia dentro non è nato il minotoro e ancora la macchina gigantesca che pone i nostri protagonisti sul fondo dell'universo dante accetta la mediazione tecnica ma propone il volo senza tecnica reale soprattutto senza un scopo spirituale e per lui una vergogna non abbiamo qui una condanna della tecnica insomma grifolino non è condannato per l'arte di volare ma un'avvertenza dall'uso della tecnica la tecnica come divertimento d'un modo senza senso siamo nell'ultima bolgia non si scappa alla vendetta di giri del bello per un solo volo vanno nell'aria la dominazione ipotetica dell'elemento leggero non permette mai di evitare l'attrazione reale del basso lasciando sempre più l'alchimia dei metalli dante ci dà adesso il ritratto della vanità assoluta quella delle brigate dei giovani toscani quelli da qui ha tanto voluto separarsi il nobile ricco di assisi francesco anche lui cresce in un orto ma per una vita d'escesi che schernivano stricca e nicolò dei selimbeni caccia d'accino e l'abbagliato bartolomeo dei forcatieri alchimisti piuttosto dei piaceri soprattutto di gola se consideriamo il famoso garofano a meno che non sia nome della materia dei saggi dell'orto dove tal seme sapica cioè la tanore per non dire della vigna del gran fonda del gran fonda il segreto dell'opera starebbe allora in questa ultima vanità costosissima coperta da versi strani questo mondo è quello delle scimmie così dante finisce con un ritratto animalesco questo canto prima di sviluppare altri tipi di trasformazione delle sostanze della natura nel canto seguente sarebbe difficile concedere che abbiamo qui l'ultima parola del poeta sull'alchimia che rimane un argomento molto nascosto nella sua ricerca del fiore dell'anima umana come l'aveva osservato roberto lander è impossibile di non evocare qui il potere della finzione dietro i falsari rimane la questione dei poeti stessi ed è l'uso della loro allegoria come verità teascosa sotto bella mansogna come diceva il convivio nella fiction retorica poetica come diceva nel vulgari 2 dante chiede ai alchimisti di palesarsi certo e me lui ma lui ma dante forse aprire la via sua soltanto nelle pistola can grande quando introdurra l'idea d'un opera polisemos notiamo soltanto che grazie alla grande potenza della sua arti trasmutazione dante è riuscito a trasmutare il sangue della guerra tra gli uomini nella storia in una comica denuncia dei senesi e altri mondani del primo capitalismo infine lui fissa la caduta del canto sul ricordo di un amico della giovinezza bologna a capocchio il discorso della denuncia della denuncia ritrova la dolcezza della memoria siamo passati dall'universale al particolare e dal contrapasso divino allo sguardo di dante sulla faccia umana e al gioco reciproco della riconoscenza non si può nascondere però come in questa conclusione delle maliborgie dante ci ha lasciato una strana strana premonizione dopo la guerra la menzogna dopo i corpi torturati e col gioco della deformità ancora peggio del sangue c'è la pelle rossa del prurito che produce le piaghe non con la spada o il coltello ma con le proprie unghie un futuro di nervosità e di accanimento contro il proprio corpo ecco la potenza profetica di questo canto che appena rivelata la piega profonda della famiglia di dante ci mostra le prime sfumature di un mondo reso un pazzo la incapacità a lasciare le sostanze nel loro atto senza divenire scimie e della natura come diceva virgilio dante era fatto per vedere altro e non fermarsi ad un mondo chiuso era fatto per divenire come ulisse del mondo esperto l'alchimia discopre qui un spazio sociale e storico al di là di un caso familiare nuovi processi sociali nuovi giochi borghesi che promettono di cancellare l'antica firenze ma come sappiamo cancellare il tempo che fu e anche per dell'orizzonte della virtù rimane soltanto il destino poetico quello di pallare all'umanità come diceva l'autore di questa commedia speculativa che ho citato parecchie volte e che riprende tutte le contraddizioni di dante e girl e cito per concludere l'unità non è l'unità inconscia del culto e dei misteri ma l'unità è il se stesso è il ritorno di tutto quello che è universale nella certitudine di se stesso è il caso di dante grazie canto 29 la molta gente e le diverse piaghe avean le luci mie si indibriate che dello stare a piangere che erano vaghe ma virgilio mi disse che pur guate perché la vista tua pur si soffolce laggiù tra l'ombre triste smuzzicate tu non hai effatto sia ad altre bogge pensa se tu hanno avrà le credi che miglia ventidue la valle volge e già la luna è sotto i nostri piedi lo tempo è poco ormai che ne è concesso e altro è da vedere che non vedi se tu avessi risposi io appresso atteso la tua cagione perché io guardava forse mi avresti ancora lo star dimesso parte sangiva e io retro riandava lo duca già facendo la risposta e soggiugendo dentro a quella cava ondio teatenea ori orchi sia posta credo cun spiso del mio sangue pianga la colpa che laggiù tanto costa allora disse il maestro non si franga lo tuo pensiero da qui inanzi soffrello attendi ad altro e i la si rimanga io vidi lui a piede del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito e udì il nominare geri del bello tu eri allora sì del tutto impedito sovra colui che già tenne altaforte che non guardasti in là si fu partito oh duca mio la violenta morte che non li è vendicata ancora di sio per alcun che dell'onda sia consorte fece lui disdegnoso ondè il sangio senza parlarmi siccome io lo estimo e insomma il fatto a sé più pio così parlami infino all'ocoprimo che dello scoglio l'altavale mostra se più lume vi fosse tutto adimo quando noi fummo solo l'ottima chiostra di maliborgi sì che i suoi conversi potevano pare alla veduta nostra lamenti sai taronme diversi che di pietà ferrati avevano gli stralli onde ho gli orecchi con le man copersi qual dolor fora se degli spedali di valdichiana tra giulio e settembre e di maremma e di sardigna i mali fossero in una fossa tutti insieme in sempre tal era quivi e tal puzzo non usciva qual solvenire delle marcite membre noi discendemo in sull'ultima riva del lungo scoglio pur da man sinistra e allora fu la mia vista più viva giù verlo fondo là dove la ministra dell'alto sire infaibile giustizia punisce il falsatore che qui registra non credo che a veder maggior tristizia fossi negina il popolo tu inferno quando fu l'ere si pien di malizia che gli animali infino al piccol al piccol vermo cascaron tutti e poi le genti antiche secondo che i poeti hanno per fermo si ristorare di seme di forbiche che era a vedere per quella oscura valle l'anguiri spiriti per diversi biche qual sol va il vento qual sol va le spalle l'un dell'altro giacea e qual carpone si trasmutta per lo tristocale passo passo andavam senza sermone guardando e ascoltando gli ammalati che non potevano levar le loro persone io vidi due sedere a sé poggiati come al scardale si poggia a teghia a teghia dal capo al piedi di schianze macolati e non vidi giamai menare streghe al ragazzo aspettato dal signorso di a colui che malvolontiere veglia come ciascun menava spesso il morso delle unghie sopra sé per la grande rabbia del pizzico che non ha più soccorso essi traevan giù l'unghie la schiabbia come coltel di scartova le scalie e l'altro pesce che più laghe l'abbia o tu che con le dita ti dismalie comincia il duca mio all'un di loro e chi fai d'esse talvoda tanalie dinne sal con latino e tra costoro che son qui in centro si lunghiati basti eternamente a contesto lavoro latin siamo noi che dovessi guasti qui ambedue rispose l'un piangendo ma tu chi è che di noi dimandasti e il duca disse io sono un che discendo con questo vivo giù di balzo in balzo e dimostra l'inferno e lo intendo allora si ruppe lo com'un rincalzo e tremando ciascuno a me si volse con altri che lo dirò di rimbalzo lo buon maestro a me tutto si accolse dicendo dia loro ciò che tu vuoi e io incominciai poscia che i volsi se la vostra memoria non si imbolli nel primo mondo dall'umanemente ma se la viva sotto molto soli ditemi chi voi siete e di che genti la vostra sconcia e fastidio da pena di palesarva a me non vi spaventi io fui da rezzo e albero da siena rispondono mi fè mettere al fuoco ma quel perché io mori qui non si mena vero è che dissi lui parlando a gioco e mi saprei levare per l'aere a volo e quei la mia vaghezza essendo poco vuole che li mostrassi l'arte e solo perché io non feci dedalo mi fece ardere a tal che aveva per figliolo ma nell'ultima bolgia delle dieci me per l'alchimia che nel mondo usai danno minos a quel falare non l'esce e io dissi al poeta or fu già mai gente si vana come l'assanese certo nonna francesca si da sai andrei l'altro lebroso che mi intese rispose al detto mio tra me ne sticca che sepe fa le tamperate spese e niccolò che la costuma ricca del garofano prima di scoverse nell'orto dove tal seme sappica e tranne la brigata in che disperse ma perché sappi chi si ti seconda contro i sanesi aguzzave me l'occhio si che la faccia mia ben ti risponda si vedrai che ho solo l'ombra di capocchio che fai sai li metalli con alchimia e ti devi ricordare si venta d'occhio come io fui natura buona scimia